Ciao, hello, sono Cristo, benvenuti al mio YouTube channel. Allora, 5 appuntamenti in 10 giorni, ecco cosa vogliamo. 5 appuntamenti in 10 giorni. Perché il nostro obiettivo è di conoscere qualcuno fuori dal mondo virtuale. Non siamo lì per guardare foto, scambiare messaggi per settimane, settimane, mesi, mesi, no. No, siamo entrati, siamo iscritti per conoscere persone nel mondo reale. Vogliamo frequentare persone perché stiamo cercando nostra anima gemella, nostra partner. Perché tante persone cosa fanno? Registrano in un dating app, un dating site, mettono la foto, le descripzioni, riempiono il profilo, fanno tutto a regola d'arte. E dopo aspettano che arrivano tutti questi messaggi. E quando entrano e non vedono tanti messaggi, rimangono deluso. Non perché tu non sei attraente o nessuno vuoi conoscerti che non hai ricevuto nessun messaggio. Perché la metà, ma anche più della metà, non sanno anche che tu esiste. Perché un sito, un dating site, ci sono mille, mille, mille persone. Se tu non fatti vedere, non sanno neanche che tu sei registrato. Allora fatti vedere. Entra, clicchi su almeno 20 profili. Dopo guarda il profilo, la descrizione e vedi chi piace veramente. E così donne, clicca su mi piace, swipe a destra, che piace. Uomini, scrivere. Cotteggiare, scrivere le donne, se piace, lei. Guarda tanti foto, guarda la descrizione e vedi quella, la donna che piace. E scrivi quella donna. Cinque impuntamenti in dieci giorni. Nostro obiettivo è di frequentare qualcuno, di trovare il nostro anima gemella, nostro partner. Non di stare dentro un sito per singles, scambiando messaggi, guardando profili. No, nostro obiettivo è di conoscere qualcuno online e frequentarlo. Allora, come dobbiamo fare? Parlando, cercando il nostro anima gemella. Guardando tante foto, non due o tre foto, venti foto. Cliccando su dieci foto, non due o tre, dieci. Scrivi, uomini, almeno dieci donne. Sì, magari non sono il tuo tipo. Dici, ma questa donna non è proprio il mio tipo. Non abbiamo molto in comune. Ma c'è qualcosa, c'è qualche feeling. Allora, scambi messaggi. Perché prima, se non scambi messaggi, non vieni fuori chi è veramente quella persona. Magari il profilo non ti convinci più di tanto. Ma scambiando messaggi, sì. Vedi che è qualcosa in comune. Lei o lui ha un senso di amore. Ciao for now! Follow me! Instagram, Facebook, Crystal Online Dating Coach. Sì, tu puoi trovare la tua anima gemella online. È facile? No, non è facile. Ma è possibile. Segui le mie regole. Click the subscribe button. Ciao for now!